Dal Vangelo di Gesù Cristo secondo Luca Ma non ci riusciranno Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta Rimasti fuori, comincerei ad abbussare alla porta dicendo Signore, aprici Ma egli vi risponderà Non vi conosco Non so di dove siete Allora comincerete a dire Abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza E tu hai insegnato nelle nostre piazze Ma egli dichiarerà Vi dico che non so di dove siete Allontanatevi da me Voi tutti operatori di iniquità Là ci sarà pianto estridore di denti Quando vedrete Abramo, Isacco e Giacobbe E tutti i profeti nel regno di Dio E voi cacciati fuori Verranno da Oriente e da Occidente Da Settentrione e da Mezzogiorno E siederanno a menza nel regno di Dio Ed ecco Ci sono alcuni tra gli uomini Che saranno primi E alcuni tra i primi Che saranno ultimi Parola del Signore Lode a te o Cristo E ci sono alcuni tra i primi